Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, finalmente vi ripropongo il video dei preferiti del periodo allora gennaio tanto sta volgendo ormai al termine e quindi siamo pronti, prontissimi per parlare dei preferiti del mese, insomma del periodo video con il quale ho iniziato insomma questo cammino su youtube e quindi sono felicissima di riproporvelo anche perché ho ricominciato in qualche modo a truccarmi, come avete visto faccio di nuovo da me la manicure quindi vi posso mostrare anche qualche smalto insomma che mi ha soddisfatto particolarmente in questo periodo insomma di tutto un po', quindi prodotti per il corpo, per i capelli, i profumi, ho fatto così un calderone allora parliamo subito, cominciamo perché i prodotti sono tanti e quindi poi il video viene troppo lungo ripetiamo sempre le stesse cose, partiamo dai capelli, ultimamente mi fate un sacco di complimenti io vi ringrazio tantissimo, non faccio chissà quali cose eccezionali sui miei capelli vi faccio vedere i prodotti insomma che sto utilizzando in questo periodo allora per quanto riguarda lo shampoo, mi sta piacendo veramente tantissimo di Fructis, della linea Garnier Fructis Air Food alla Macadamia allora in realtà questo è lo shampoo lisciante voi sapete perfettamente insomma che io ho i capelli ricci però voglio dire questo non ci impedisce assolutamente di utilizzare uno shampoo lisciante e viceversa anche perché sì, probabilmente ha la funzione di rendere più facile il procedimento di lisciatura del capello però devo dire che sui miei capelli ricci questo shampoo funziona alla perfezione mettiamo gli occhiali se no non vedo un tubo allora questo è uno shampoo vegano senza siliconi quindi un prodotto formulato anche abbastanza bene ed è indicato per capelli secchi e ribelli mi piace tantissimo è un prodotto con il 98% di ingredienti di origine naturale fa una schiuma delicata ma quello che mi piace tantissimo di questo shampoo è anche la profumazione questa densità che mi piace veramente tanto e niente lo adoro mi sta piacendo tanto lava bene il cuoio capelludo non lo irrita rende i capelli belli morbidi morbidi profumati quindi super promosso altro prodotto che sto amando alla follia e mi piace veramente tanto l'ho acquistato da poco però ve ne volevo parlare perché lo trovo efficace è questo prodotto di Botanicals della linea Botanicals Fresh Care è un olio pre-shampoo un preparato idratante alla lavanda allora io questo l'ho preso da Tigotà però credo insomma che si trovi in generale nella grande distribuzione non so se riuscite a vedere bene allora è un prodotto per la cute e per il 99% con ingredienti di origine naturale e vi vado a leggere subito allora questo è un olio pre-shampoo è un olio essenziale di lavanda bio che può essere utilizzato fino a tre volte a settimana e va praticamente applicato direttamente sulla radice sulla pelle io prendo un po' di prodotto lo mescolo diciamo sulle mani e poi lo vado a massaggiare con i polpastrelli su tutta la radice su tutta la cute e quando ho terminato praticamente lo vado a stendere anche sulle lunghezze lo tengo su 15-20 minuti a volte anche mezz'ora e ha un effetto bellissimo perché quando poi li vado a sciacquare sento proprio la morbidezza a partire già dalla radice è un prodotto che va a idratare i capelli è un prodotto idratante quindi non mi sento di consigliarlo magari a chi ha i capelli grassi con forfora ma per chi non ha diciamo particolari problemi e ha un capello da normale a secco trovo che questo prodotto sia veramente molto efficace mi piace tantissimo e poi ha una profumazione veramente molto molto buona poi allora sapete che utilizzo gli spray per il ritocco in realtà oggi avrei dovuto mettere un po' di ritocchino qui perché cominciano a perdersi i capelli bianchi però non penso che vi formalizziate insomma ho trovato questo prodotto che non mi pare di aver già utilizzato sapete che utilizzo lo spray di Noa con il quale mi sono sempre trovata benissimo volevo provare qualcosa di diverso e ho preso questo di Schwarzkopf ritocco ricrescita e ho preso il nero stavolta non il castano scuro perché ho notato che il castano scuro mi fa la ricrescita marrone e non va bene perché comunque io si faccio il castano scuro ma vedete che comunque i miei capelli sono neri proprio scuri 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 e quindi ho preso il nero ed è questo io mi sto trovando bene mi piace un sacco innanzitutto l'effetto è molto naturale devo dire che si nebulizza benissimo e soprattutto macchia ma macchia poco quando io mi vado a toccare i capelli macchia poco e dura giorni quindi si toglie proprio con lo shampoo non è che a mano a mano che mi tocco i capelli viene via e non mi dispiace devo dire la verità quindi penso che lo ricomprerei perché alternandolo diciamo al NOA è un prodotto che mi piace molto scusate il telefono del negozio quindi devo rispondere eccomi qui scusatemi era una telefonata di lavoro dovevo rispondere allora per quanto riguarda lo struccaggio il viso insomma sono tanti i prodotti che uso però volevo parlarvi assolutamente di questo prodotto il prodotto si chiama Naobei cioè il brand è Naobei è Natural & Organic ed è questa acqua micellare illuminante detox allora questo è un prodotto che a me è stato regalato da mia cognata ma che potete tranquillamente reperire sia online che nei negozi Ticotà allora questo è un'acqua micellare con aloe vera a tè verde e limone salvia ed è un'acqua micellare illuminante super delicata soprattutto per chi come me ha problemi di pelle sensibile è un prodotto che io utilizzo per pulire in profondità e in maniera delicata non la uso sugli occhi perché ho visto che non è efficacissima ma la utilizzo per pulire in profondità il viso lo trovo un prodotto delicatissimo e quindi super super consigliato dopo che passo la mia acqua micellare termino l'operazione utilizzando questo prodotto qui di dermovitamina si chiama Calmilene un prodotto che io vi avevo già citato qualche mese fa insomma durante forse un video sugli acquisti che avevo fatto o sui prodotti preferiti per la detergenza del viso e questa è una linea di detersione specifica per pelli secche e sensibili e in particolare questa si chiama Sensi Cream detergente in crema ed è un prodotto senza sapone ad elevata tollerabilità cutanea con un pH termo affine con Calmilene e vitamina A ed è perfetta sia per il corpo che per il viso di adulti e bambini non contiene né parabeni né paraffina né alcol è nickel tested quindi è un prodotto fantastico veramente e protegge la pelle dalle irritazioni dalla secchezza previene quell'effetto pelle che tira e ha una profumazione che è meravigliosa e quindi faccio una sorta di doppia detersione vado ad applicare questo prodotto sul viso umido lo massaggio e allo stesso tempo mi regala un momento proprio di piacevole coccola perché ha una profumazione incredibile quindi anche questo stra consigliato per quanto riguarda il corpo vi faccio vedere questi prodotti allora super promosso amato follemente non so quante confezioni ne ho già comprate quindi ne sentirete parlare anche nei prodotti finiti di Palmolive Naturals con latte idratante questo doccia crema alla mandorla e latte ed è stupendo mi piace tantissimissimo la profumazione insomma mi piace è un doccia crema quindi non è che bisogna dire chissà cosa e poi sto amando tantissimo perché sto cercando di usare sempre la stessa crema corpo per riuscire a portarle a termine questa me l'ha regalata mia cognata di Victoria's Secret Amber Romance in Bloom a parte i packaging che sono fantastici questa è una crema corpo molto profumata all'ambra una bellissima profumazione calda e orientale affascinante che si sposa benissimo con i vari profumi un po' orientaleggianti quindi profumi belli ambrati muschiati profumi a base di oud ma perché no anche con dei classici fioriti è una crema corpo che è molto versatile si adatta veramente all'utilizzo ad essere abbinata a tantissimi profumi e quindi la sto adorando anche per la sua capacità idratante insomma perché rende la pelle bella liscia e profumata poi su consiglio della mia amica Dani che saluto le mando un grossissimo bacio e ho preso e sto utilizzando con estremo piacere questo deodorante di malizia profumo di intesa la profumazione seduction parfum green tea è una linea che comprende veramente tantissime profumazioni vorrei provare anche quella alla vaniglia ed è molto carino questo è un bouquet luminoso rallegrato da sensuali sfumature di tè verde e bergamot che avvolge in un sofisticato cuore fiorito è molto carina come profumazione molto delicata e tra l'altro anche molto molto efficace perché dura tanto devo dire che giustamente contenendo alcol è poco indicata per chi ha problemi proprio di sensibilità sulla zona delle ascelle io ad oggi non ho mai sofferto di questo e quindi posso utilizzare qualunque tipo di deodorante ho ricominciato diciamo ad utilizzare lo smalto perché non sto facendo più il gel dal momento del primo lockdown in cui sono rimasta col gel le unghie l'ho dovuto eliminare da sola e soprattutto insomma ho fatto un gran danno perché sono andata troppo in profondità e mi sono distrutta le unghie ho deciso che non voglio più fare il gel ma anche per evitare di andare a fare il gel quindi frequentare un luogo che è frequentato da tanta gente insomma preferisco evitare allora voglio menzionarvi due smalti pazzeschi che mi stanno piacendo molto allora il primo è sempre un regalo della mia amica Daniela che ho appena citato e me l'ha regalato per Natale ed è strepitoso è uno smalto della linea red carpet di Bourjois quindi un brand che possiamo reperire online nonché da Tigotà ed è un rosso pazzesco questo si chiama il numero uno second è un rosso bellissimo iper iper elegante non è un rosso Natale è proprio un rosso un rosso sexy ma la cosa che mi piace di questo smalto è uno smalto che ha una stesura una fluidità semplicissima quindi facile da applicare il colore è bello pieno fin dalla prima passata guardate ha un super pennello si asciuga immediatamente e anche senza il tocco è uno smalto che ha una durata eccellente poi l'altro smalto che vi vorrei consigliare è quello che ho su che trovo che sia di una bellezza e di un'eleganza incredibile mi piace un sacco ed è questo della linea expressi di essi guardate che meraviglia e idee 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 in particolare il numero 70 cold blue no scusate cold brew crew comunque vi metto tutto giù nell'info box in realtà io questo ve lo avevo fatto vedere forse in una storia di instagram sì avevo fatto degli acquisti degli smalti ve lo avevo fatto vedere e poi questo spray asciuga smalto che ho preso da dm questo è credo che sia la loro la loro marca questa comunque si chiama quick dry nail spray she style zone ed è questo prodottino qui che mi sta piacendo tantissimo è uno spray in olio che appunto va spruzzato sulle unghie una volta smaltate e permette un'asciugatura rapida nonché una brillantezza pazzesca quindi questo è un prodotto che vi stra consiglio tra l'altro è un super 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 low cost allora passiamo adesso al make up non ho avuto dubbi nello scegliere questi prodotti perché sono quelli che sto utilizzando assolutamente tutti i giorni allora il primo aspettate che poggio tutto qui il primo di cui vi parlo è questa palette che ho ricevuto a natale come regalo da parte della mia amica Sonia alla quale mando un grossissimo bacio ed è la rose gold chocolate di revolution una palette super versatile con questi colori belli caldi è una palette di una qualità eccellente eccellente anche il make up che ho realizzato oggi l'ho realizzato appunto con questa palettina che ha tutti i colori possibili immaginabili per creare trucchi semplicissimi insomma da giorno nonché magari trucchi un pochino più strong con dei magari smokey eyes un po' più intensi ottima texture ottima sfumabilità durano tantissimo sulle palpebre anche senza il primer che io non uso ed è un prodotto validissimo altra palette della quale vi ho già parlato forse ripetute volte metto gli occhiali scusate perché non riesco a leggere più neanche i nomi e questa è sempre una palette di revolution in questo caso parliamo della reloaded provocative che è una palette bellissima sempre con questi colori incentrati appunto sui berry che sapete io adoro tantissimo questa è un'altra palette che mi piace veramente utilizzare complementare a quella che vi ho fatto vedere se voglio intensificare magari un colore ma non è necessario perché sono dei colori super intensi sia questi che quelli stesse caratteristiche sfumabilità intensità di colore durata sulla palpebra prodotti low cost con una resa altissima poi sto amando tantissimo e ve ne ho già parlato anche di questo sempre di revolution il chocolate dipped questo mascara che ha poi questa confezione stupenda sempre regalo della mia amica Sonia che ho gradito veramente tanto vedete questo è l'applicatore separa perfettamente le ciglia le incurva e devo dire che mi sto trovando benissimo anche questo diciamo un prodotto low cost ma molto interessante idem per questa matita questa è una delle matite delle lip liner long lasting di essence queste sono sempre reperibili insomma in tutti i punti vendita che rivendono OVS essence quindi da OVS per esempio dove l'ho presa io questa è la 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 vi dico subito la numero 7 plum cake ed è questo color malva che io utilizzo per intensificare e creare i bordi su tutti i rossetti nude che siano nude rosati o che siano nude marroncino sono matite eccellenti super low cost ma veramente con una resa elevatissima perché tra l'altro se le utilizzate proprio come rossetto durano più di un rossetto liquido a lunga tenuta sono veramente delle matite eccezionali e poi due rossetti che mi stanno piacendo tantissimo uno è quello che ho su oggi che trovo che sia di una bellezza stratosferica mi è stato regalato da Patrizia per il mio compleanno ed è un rossetto di Faberlic della linea New Generation Liquid Lipstick nella colorazione 40876 è numerato diciamo il nome ed è questo quello che ho su in questo momento mi ha sorpresa pazzescamente Patti ti dico che voglio prendere almeno il rosso è un nude perché hanno una texture cremosissima sembra quasi una mousse è un applicatore che permette io non ho messo matita viene un'applicazione in pratica perfetta geometrica non immaginavo devo dire la verità super sorprendente si asciuga totalmente è un no transfer guardate e non secca assolutamente le labbra fantastico veramente e poi lui mi fate sempre tanti complimenti quando lo indosso è un rossetto liquido long lasting di Douglas la loro linea di rossetti ultimate matte si chiama e questo in particolare io non so se c'è la colorazione si è il numero 7 glam challenge e vi faccio uno swatch è un rosso fantasmagorico elegantissimo bellissimo for season quindi perfetto in tutti i momenti dell'anno texture pazzesca e si toglie soltanto con lo struccante viceversa potete mangiare non si toglie assolutamente è veramente un rossetto di altissima qualità allora adesso parliamo dei profumi insomma che sto apprezzando in quest'ultimo periodo non sono gli unici ovviamente però sono quelli di cui voglio parlarvi e per i quali voglio spendere qualche parolina allora il primo è un profumo e non avrei mai detto insomma acquistato così per caso credo forse durante il periodo natalizio adesso non ricordo non ricordo quando l'ho preso questo profumo comunque sto parlando di te zenis pop o de toilette questo mi ha affascinato e incuriosita per il packaging con questo rosa bellissimo però poi quando l'ho spruzzato e l'ho sentito mi ha conquistato è un profumo molto nelle mie corde perché è un profumo dolce ma allo stesso tempo un fruttato la colorazione lo descrive perché sa un po' di fragoline di bosco di frutti rossi di panna montata ma non ha assolutamente una dolcezza così estrema così stucchevole quasi nauseante so che tanti di voi non amano non apprezzano quel genere di dolcezza lì ma è un profumo una dolcezza più aspra una panna ma una panna meno addolcita proprio perché abbiamo questa presenza elevata secondo me nella piramide olfattiva che non ho visto non mi sono andata a leggere proprio di frutti aspri quindi ci sento lampone ci sento mirtillo insomma il ribes frutti di bosco frutti rossi a go go effervescente frizzante giovanile ma secondo me è un profumo che possono apprezzare anche le donne attempate come me è un profumo che mi piace molto diciamo che non dura queste ore però insomma due o tre ore il profumo addosso si sente lascia poi uno skin scent molto molto gradevole fruttato leggero vi consiglio insomma di eventualmente di andarlo a provare di andarlo a sentire molto molto carina come profumazione il prossimo profumo è una scoperta per me è una novità tra l'altro mi è stato consigliato da una di voi in questo momento mi sfugge il nome mi ha contattata privatamente su instagram ma siete veramente così tante che mi consigliate profumi tutti i giorni che io poi mi perdo un attimo comunque se stai guardando questo video tu sai che mi riferisco a te quindi ti ringrazio veramente tantissimo il profumo in questione è un profumo del dottor Taffi e si chiama Remier Cannabis Eau de Parfum che io ho acquistato direttamente dal sito e vabbè la boccetta è la classica boccetta dei profumi del dottor Taffi è un formato da 35 ml ed è un profumo carinissimo allora il Remier è questa corteccia asiatica dalla quale si ricava una fibra tessile una seta insomma quindi questo profumo vuole ricordare proprio la leggerezza tipica al tocco dei tessuti delle sete ed è un profumo pazzesco mi piace tantissimo è un sip con all'interno note di rosa con la presenza di questa nota così un po' rilassante della cannabis con un fondo muschiato e ambrato è un profumo unisex si sente tantissimo questo questo intento di accontentare anche il gusto maschile è un profumo che ha una sua personalità un profumo deciso ma allo stesso tempo morbido proprio questo richiamo alla leggerezza di un tessuto di una seta che accarezza il corpo un profumo molto carezzevole ma deciso devo dire quindi anche da questa doppia anima così leggera romantica vellutata ma anche abbastanza prepotente e decisa veramente un profumo carinissimo con una buona persistenza mi piace tantissimo sentirlo lo trovo anche molto sexy devo dire comunque fragranza molto molto interessante quindi grazie grazie veramente per avermelo consigliato perché la sto amando tantissimo l'ultimo profumo è un profumo incredibile e adesso vedrete quanto l'ho utilizzato tra l'altro un profumo che mi è stato sempre consigliato da una ragazza che mi segue che vive qui dove vivo io e quindi mi ha dato la possibilità di conoscerlo lei lo ha preso in un negozio che c'è qui nella mia città ho aspettato un attimo a parlarvelo innanzitutto perché volevo effettivamente capire se mi piaceva oppure no e volevo essere sicura che nel caso in cui stuzzicassi la vostra attenzione il vostro interesse ci fosse la concreta possibilità di acquistarlo allora il profumo in questione è una fragranza che nasce per la donna ma è assolutamente un profumo unisex e si chiama 2740 ed è un profumo che prende il nome proprio del negozio in cui l'ho acquistato che si chiama appunto 2740 io ho parlato col ragazzo che credo sia il titolare insomma che c'è all'interno del negozio il quale mi ha detto non solo che hanno un profilo instagram che io vi lascio giù in infobox ma che fanno anche spedizioni quindi eventualmente è un profumo che si può acquistare ma che ovviamente andrebbe acquistato al buio allora io non ho mai sentito in vita mia niente di più buono e mi verrebbe da dire di più fantastico che non si può dire ma in questo caso vorrei dirlo allora lui mi diceva che questo profumo si ispira a black afgano di naso matto e quello è un profumo che ha un po' rivoluzionato il mondo della profumeria proprio per questi sentori fumosi di questo incenso così forte note di hashish appunto è un profumo pazzesco allora innanzitutto va dosato questo è un profumo che preannuncia il nostro arrivo già a almeno almeno 5-6 metri di distanza non sto scherzando è un profumo che ha una durata di 24 ore e oltre nel senso che lo mettete alle 10 del mattino e se andate a dormire senza fare una doccia all'indomani è come se vi foste spruzzati il profumo in quel preciso istante è uno di quei profumi in cui non esiste la soggettività per quanto riguarda la persistenza ma solo un discorso oggettivo questo profumo è incredibile allora ovvio che io non ho trovato le note olfattive di lui ma vi posso leggere le note olfattive di Black Afgano perché sicuramente all'interno probabilmente ed è certamente così non ci saranno quelle note lì nel senso quella forse la qualità eccelsa delle materie prime di Black Afgano ovviamente però qui hanno ottenuto un risultato che è eccellente allora parliamo di un profumo ambrato fumoso legnoso e le note che abbiamo dentro questo profumo in teoria sono cannabis e note verdi le resine le note legnose il tabacco e il caffè il legno di agar l'oud e l'incenso ma è tutto sono stati bravissimi a amalgamarli a fonderli insieme in un equilibrio perfetto allora questo è un profumo che all'inizio ha questa esplosione molto forte quasi offuscante delirante oserei dire per poi evolvere durante la giornata in una maniera più morbida questo è un profumo che diventa un talcato legnoso all'oud strepitoso non lo sento per nulla terroso non lo sento per nulla animalico ma è un profumo super fumoso che ricorda veramente in maniera eccelsa le atmosfere orientali queste stanze cupe piene di cuscini in cui si fuma il narghile è una rievocazione molto percepibile insomma io credo che sia una sensazione che trasmetta un po' a chiunque quindi queste atmosfere orientali queste tazze di tè particolarissime è veramente una creazione strepitosa ad un prezzo accessibile se lo perché costa mi pare 35 euro per un 100 ml no scusate per un 50 ml che però rapportabili appunto al black afgano di naso matto insomma c'è un risparmio incredibile e sono riusciti secondo me nell'intento è una favola è una favola cioè io assolutamente appena arrivo qui lo vado a riacquistare perché mi piace veramente tantissimo quindi volevo condividere con voi questa profumazione se siete interessati io vi lascio giù nell'info box il profilo instagram potete contattarli in direct eventualmente se siete interessati all'acquisto allora io credo che il video sia venuto lunghissimo ma i prodotti erano veramente tanti ho cercato di essere veloce ma forse mi sono persa un po' per strada io vi ringrazio ovviamente per averlo visto e ringrazio soprattutto chi ha avuto la forza e il coraggio di vedere il video fino alla fine vi mando come sempre tutti i miei baci super affettuosi se vi va ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao